Un lombardo, Rianzolo, origine papà, Sarda, gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs, Giappone fuori, Giappone sbaglia, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa, Gran Bretagna all'interno, Gran Bretagna, Cina, ho schiacciato il cambio dell'Italia, ho schiacciato il cambio dell'Italia, Gran Bretagna, Italia, Gran Bretagna, Italia, Cina, Gran Bretagna, Italia, Cina, Italia, Italia, 37 e mezzo, Italia, Italia, 37 e mezzo, non è pepre, è pepre, è pepre, e febrone da cavallo, lo aspettiamo, 37 e 50.